In formula, il massimo consumo d'ossigeno è dato dal prodotto della frequenza cardiaca massima per la citata pulsatoria per la differenza arterovenosa d'ossigeno. Nella frequenza cardiaca massima abbiamo già parlato in un altro video, comunque ricordiamo che sta a indicare il massimo numero di contrazioni che il cuore può effettuare in un minuto. La citata pulsatoria è la quantità di sangue messa in circolo dal cuore ad ogni sistole, quindi ad ogni contrazione. La differenza arterovenosa di ossigeno sta a indicare quanta è la discrepanza fra la pressione dell'ossigeno che noi troviamo a livello arterioso rispetto a quello venoso. Ovviamente più è alta questa differenza e più vuol dire che l'organismo ha consumato ossigeno. L'ossigeno fondamentalmente a cosa serve? Perché l'ossigeno entra nei polmoni e da qui viene trasportato dal sangue alle cellule muscolari. Cellule muscolari, dette anche fibrocellule, sono ricche di mitocondri e all'interno dei mitocondri avviene l'ossiduzione di lipidi, proteine e carboidrati allo scopo di produrre adenosine trifosfato, il famoso ATP, che è la fonte universale e di energia per tutto l'organismo. Quindi più ossigeno entra nei miei muscoli e più sarò in grado di produrre ATP e più sarò in grado di compiere lavoro. Ecco, il massimo consumo d'ossigeno ovviamente deve crescere con l'intensità dello sforzo. Quando, pur crescendo lo sforzo, il consumo d'ossigeno non aumenta più, vuol dire che abbiamo individuato il nostro massimo consumo d'ossigeno. Quindi abbiamo individuato quella che è la maggior capacità da parte dell'individuo di utilizzare ossigeno e quindi di ossidare substrati, cioè proteini, lipidi e carboidrati. Il massimo consumo d'ossigeno inesorabilmente decresce con l'età. Quindi una volta che l'individuo ha terminato il suo sviluppo tocca il teorico massimo consumo d'ossigeno raggiungibile nell'arco della propria vita e se non si allena costantemente avrà una perdita graduale di anno in anno. Quindi se si vuole mantenere anche macchinità avanzata, una capacità lavorativa aerobica accettabile, è necessario allenarsi costantemente. Il massimo consumo d'ossigeno è più alto nell'uomo rispetto alla donna e noi parleremo di questo specifico aspetto in uno dei video seguenti che metteremo sul nostro canale. Ecco vediamo, come diciamo prima, come varia il massimo consumo d'ossigeno con l'età. parliamo chiaramente di atleti non professionisti che hanno valori completamente diversi e lo vedremo in un altro video. Ecco vediamo nell'uomo dove partiamo dall'analisi del consumo d'ossigeno nell'uomo che raggiunge, diciamo al termine dello sviluppo, valori attorno ai 56 millilitri pro chilo al minuto, mentre in persone assolutamente sedentarie che non si allenano vediamo che va al di sotto di 42 millilitri pro chilo al minuto. Obiettivamente vedete che la quantità di gente che è in grado di raggiungere questo tipo di valore si trova al 95% quindi vuol dire che sono sostanzialmente poche le persone in grado di raggiungere un valore di questo tipo. Se vogliamo confrontarlo con persone di età molto avanzata quindi nella fascia d'età fra 70 e 79 anni vedete che va considerato un valore elevato quello fra attorno ai 42 millilitri pro chilo al minuto. Vedete che persone di età molto avanzata che si tengono in costante allenamento hanno comunque valori più o meno paragonabili a quelli di un giovane con 50 anni di meno che non fa niente. Quindi ancora di più bisogna capire che è fondamentale proseguire l'allenamento aerobico per tutta la propria vita. Abbiamo già detto che nell'uomo il massimo consumo d'ossigeno è più alto rispetto alla donna. Vedete che le donne anche in condizioni di eccellenza non arrivano ai 50 millilitri pro chilo al minuto. Addirittura nelle fasi più avanzate della vita anche con un costante allenamento si arriva sui 37 millilitri pro chilo al minuto. Però anche in questo caso vedete che anche in una fascia di età avanzata ci si mantiene in una condizione comunque superiore a un giovane che non fa nessuna attività fisica. Se volessimo fare e rappresentare graficamente come decade il consumo d'ossigeno nei soggetti allenati maschi e femmine rispetto ai soggetti non allenati sia maschi sia femmine vedete inequivocabilmente come la differenza si mantiene elevata in tutto l'arco della vita e che comunque anche in fase avanzata come abbiamo già detto una persona che fa sport costantemente si mantiene in una condizione addirittura superiore rispetto a una persona molto più giovane che non fa assolutamente nessuna attività. E questo è vero sia nell'uomo che nella donna. Ecco vediamo invece qui rappresentato come varia il consumo d'ossigeno fino ad arrivare al suo massimo valore rispetto alla frequenza cardiaca. Ecco che qua cominciamo a vedere come variano i valori degli atleti e di assoluta eccellenza che possono tranquillamente arrivare a valore anche sopra i 70 ml pro chilo al minuto valore non raggiungibile molto superiore rispetto a quello anche di un under 23 e addirittura molto ma molto superiore rispetto a quello di un soggetto che fa attività agonistica a livello amatoriale e come abbiamo già detto in un altro video bisogna mettersi il cuore in pace per quanto ci si alleni non si arriverà mai a livello non solo di un atleta di elite mondiale ma nemmeno a quello di un under 23 perché ripeto che queste sono persone che lo fanno di mestiere di solito non fanno altro nella vita sono seguite in un certo modo hanno dietro uno staff che gli consente di arrivare a questi risultati una persona che lavora che fa una vita normale come vedete a questi valori non ci può arrivare vedete poi l'enorme gap rispetto ai soggetti che non fanno assolutamente attività fisica la differenza è enorme ovviamente non solo rispetto al professionista ma anche già da amatori di livello agonistico ecco se vogliamo vedere come variano i vari livelli di massimo consumo d'ossigeno nelle diverse discipline sportive vedete che curiosamente il massimo valore mai registrato è dichiarato in un laboratorio perché come abbiamo già detto in un altro video che parlava di Induraine non è così facile che atleti di altissimo livello rivelino i loro valori che rendono pubblici i loro esperimenti vedete che comunque il massimo valore mai riscontrato è stato rilevato in questo Oscar Svensson di cui accenneremo dopo addirittura ha superato i valori di due sciatori di fondo in particolare Björdeli ve lo ricorderete tutti è abbastanza curioso che un ciclista riesca ad avere un valore di massimo consumo d'ossigeno superiore a uno sciatore di fondo che usa sia gli arti superiori che inferiori però così è stato vediamo anche nomi importanti per esempio quello di Miguel Induraine a cui abbiamo dedicato un video vedete quello di From quello di di Amsterdam oppure con tutte le polemiche che ci sono e andate dietro e quindi vedete che sono valori che sono al di fuori di quello che può raggiungere il comune mortale ecco il valore di massimo consumo d'ossigeno mai ufficialmente registrato prima d'ora riguarda questo atleta fu registrato nel 2012 prima dei mondiali junior quindi non parliamo neanche di un atleta che era diciamo ormai nella fase ascendente nella sua carriera ma ancora in età molto giovanile atleta specialista in prove contro il tempo quindi un cronomen attualmente corre ancora però pur senza risultati di rilievo viene da chiedersi come un valore del genere non si è mai scaturito in titoli importanti però questo atleta corre ancora chissà che nel proseguo della carriera non ottenga i risultati che si presume possa avere una persona che ha raggiunto il massimo valore di massimo consumo d'ossigeno mai registrato nella storia della medicina dello sport ecco come sempre se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e se volete lasciare dei commenti fare domande potete farlo e vi invito a iscrivervi alla pagina e vi aspetto al prossimo video ciao a tutti